Bene a tutti ragazzi, io sono Volevo 2.0 e oggi giochiamo a Brawl Stars e oggi siamo insieme al mio amico Giovanni, saluta! Ciao raga! Allora, oggi faremo alcune partite, che modalità facciamo? No, vabbè, facciamo quasi tutte, dai, sopravvivenza, football, dominio, KO, faccia il mostro! Eh, non va bene, vogliamo fare... va bene, iniziamo con sopravvivenza, dai raga! Va bene! Ragazzi, lasciatela e iscrivetevi al canale di Valerio, mi raccomando, vi tengo fissati! Ecco, allora, giochiamo a Brawl Stars e io scelgo Colette, ok? Io metto RT perché non ho bloccato da poco! Metto Colette, ok andiamo! Allora raga, già vi dico, mettete like, iscrivetevi al canale, lasciate la campanellina, se non vi sto troppo antipatico! Poi tutti quanti li vedete, sai? Sto scherzando! Prendiamo questa cosa! Beh, comunque già che ci siete, non voglio fare pubblicità però, adesso iscrivetevi al canale di Valerio e iscrivete anche al mio, sono molto triste! Attento, c'è Tizio, c'è Tizio, il mio canale si chiama Filofoio, vabbè ho fatto pure io i video con lui, quindi... Aiuto, 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 e niente, e niente, e niente! E' proprio bene, che triste! Adesso mi metto, chi mi metto vale? Mi metto Spiky! Va bene, Spiky! Uh, è vero che tengo te Spiky tronco bellissimo! Che bello! Giù, posso dirti una cosa? Molte immagini che prima ne facciamo tutto il video, poi si scopre che non si sente niente! Se succede veramente, cioè, mincavolo! Che silenzio! Corri! Aiuto, mi lagga, vabbè, tutto a me, proprio! Mi lagga, guarda tutti quanti contro di noi, se! Siamo fatto un posto! Tom, bambino! Il bambino mi sta ammazzando a me! Aiuto, aiuto! Addio, vale! E niente! Mi rubo il tuo paura! Intanto, tra poco muori! Gioca, non sai che il nuovo brawler là, Coyote Dog, probabilmente con un gadget riesce a curarti! Eh! E attacca! Riesce! A curarti! Ho detto quando l'ha, che cosa si intende quando l'ha? Quando attacca! Aiuto! Perché mi è passata a me il coronavirus? Il coronavirus! Oh! E no, 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 no! Ah! Sapevo! Sono morto! Questo video si intituto di... In titoli di età! Vabbè, ya, parlo con lui! Il... Vale, come si dice? Si intitolerà? Intitolerà! Valero si arrabbia su Brawl Stars! Oppure non riusciamo a vincere a nessuna partita di Brawl e mi cavolo forte No però, ora ci muori, ora ci lasci le penne Aiuto, aiuto, aiuto Non mandarmi Covid, se vabbè pure questa tizia Va bene, adesso andiamo in alla prossima mappa e foot Brawl Ok Io già metto un brawler che sicuramente è fortissimo Quale gli raccontiamo quella cosa della scuola? Quale? Quella lì di football Ah Ti la racconto io? Sì Ragazzi, tipo una giornata, era loro d'inglese, noi là a Broussard E tipo la maestra dice Ragazzi, calcio si dice football No io, io, sotto brollo, suora La suora, la suora, secondo me la suora poi ha risposto Due Giovanni Eh? Due Giovanni Due in condotto Qua se pure una big bubble Big beagle Quanto mi lad, li aiuto Passatemente Dai mi lagga Comunque per un dire Ti ho messo il volume a massimo Cosa? Ti ho messo il volume a massimo Quindi pure mio padre ti può sentire Mi lagga Anche a me Con la palla Corriamo Ma tu sei stupido Mi lagga tutto Cioè vale Ma dai non vali perché Muori Tutto muori Mi lagga tutto vale Sì Yes 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 Ma sì All'inizio quando non succede niente Non mi lagga Poi quando succede qualcosa mi lagga Non mi lagga tutto Non mi lagga tutto Non mi lagga tutto E abbiamo perso Ok Dai Ti pronti Dai passiamo la prossima mappa Che sennò il video non finisce subito Ok vai domino Mi metto Eh io domino non sulle persone Mi metto barrel Mi metto edgar Con un po' la skin bellissima Speriamo che adesso non mi lagga Non mi lagga Non mi lagga Come non detto Ma do quanto mi lagga Più o meno Adesso non mi lagga tanto Nemmeno a me Ma quando arriva i miei mi si lagga Mi stanno laggando Mi stanno laggando Mi stanno laggando Mi stanno laggando Oh so Tic Proprio è odioso Ma dai non vale Ma raga Ti visto pure voi Appena attaccato Vale Dicami a un chiso Lo so Anche con la mia super Io ti ammazzo Tic più forte Brutto Tic Lo schiaccio No Ma come il 2 Cioè il 2 Il 2 Sto Tic Un misero Una misera pallina Succede Che ho chiso ambra Cioè Vale Ci stanno facendo ammazzare Da più stupidi Che ho chiso ambra Non ci so Bombardone Ma ho spiegato La mia super La mia super La mia super E dai però Ambra è troppo potente Ci vabbè pure Ambry Abbiamo perso Si vede che abbiamo perso No però Perché facciamo così tanto Che c'è Schifo Passiamo alla prossima Mappa Andiamo Allora Qual è la prossima Arraffage La più brutta Arraffacemme Arraffacemme Arraffapippe Io metto Ash Bravo Verso vi metto Ecco Bonni Io metto Ash Io metto Ash E io metto lì Schim C'è pure il singhiozzo Sì No Ok Ok Vale Ce la posso fare Vai Ok vai Raga Lasciate Lasciate Mi piace Così È tutto buio Raga Aiutateci Vi prego Lasciate un like Per Per Perci vincere Non abbiamo vinto nemmeno una partita Ma dai Come ho fatto a sfiorare Con colpo Non so come Cosimo E faccio l'attacco Attacco 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 Dai like I like vale L'ho visto i like E sono morto Come no i like I dislike Mi hanno messo Mori No Se vabbè pure le mine Domani mattina Domani mattina vince Vabbè i lag I lag di cacca Non c'erci Non c'erci Non c'erci Dai però C'è No però No però No però No però Bello Vabbè ma me c'erci Il lag che ti muove Un sabato Che sta questo Ma che Che è successo Che cacca Guarda io tengo il lag che mi sa Che tengo Tengo la connessione che mi sa Buca Dai E niente E abbiamo visto Buca Dai raga Almeno che io Ce la possiamo fare K O L'ultima K O Io so Io so Io so Chi metto Aspetta Io so Uno Tra i brawler K Mi sa che Dobbiamo fare due Due partite Sì Mi metto Ambra Sì vai Ambra Ma che Stanno sparando A te Giù Cosa Stanno sparando A te Sì I fuori I fuori D'artificio Ah i fuori D'artificio Bri 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 Vai Forse Vai franco Per esplodere Vai Giù forse Veramente Non si sente La nostra voce Forse Ho basato Il volume Guarda Tutti contro di noi Oggi Guarda 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 qua No No Yes Ok raga Avete lasciato un like Finissimi Guarda Guarda c'è un tuo Oddio Guarda c'è un tuo clone C'è un tuo mar 753 Raga avete lasciato i like vero? No Non morire Raga lo so Grandi avete lasciato i like Perché Perché mi fa male? Sono ancora troppo giovane Abbiamo vinto Ragazzi avete lasciato i like Grandi Grandissimi Raga Guarda Facciamo ne altre due Va bene Non dobbiamo Un po' di tempo Comunque si fuori L'artificio Mi sta andando Stando andando Fastidio Sto finiti Non ti preoccupare Sioni Dobbis Ti avrei Vetti pronto Aspetta Ma no Vale ti ricordi Quando apre Il mio brawler Che Sì Ma è morto Comunque Che Comunque Piper 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 E Bea Sono fortissimi In In KO Piper Sì è vero Che Bea Fa figlio di essere brava Bravi Ma Quanto lagga Ok Anche a me Oh ma Che stanno proprio tutti Contro di nuovo No Che vale Che gas Gas E che ce ne frega No No E noi stiamo laggando Come Che ne frega Aspetta Vale mi scopri Se c'è scopri No l'ho mancato Ma Mamma mia È mia Mamma mia Lo sai che Faccio Guardare L'ho preso La morire Ragazza Sputo fuoco Vale mi larga No Ritorna qua Nella mia Non c'è spuglietto Ma guarda Ha cicotto 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 Stabilito Mi larga No adesso non cicotto più Ma le c'è la Che la tempesta Se vabbè pure No mi ha fatto speccare la super Come ha fatto speccare la super Oddio no 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 Ma siamo morti Lo so Sono fritti No 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 Tu lo riprendi No no Sì Sei invece Pam Yes 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 Quando tu ti sembrava perso Alla fine si vince Yes Quando si è tanto giù Si ritrova sempre la via di fuga Non so che cosa ho appena detto Dove l'hai letto questo articolo Sul libro di Mary Poppins? Su Gaga al Gugu Gaga Che cacchio di sito C'è che cacchio di sito Vai a vedere Scusa Un sito Quando tutto si è mai aperto Abbiamo perso Certo che abbiamo perso Che figa però Ma dai Mi fa proprio cacare È morto Ragazzi aspettate Vale Eh che c'è Sì 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 Sì